Vi sono altri casi in tutta Italia dove all'avvio delle ZTL hanno avuto numeri quasi equivalenti a quella della città di Cosenza. Abbiamo avuto due mesi per informare i cittadini e per sperimentare queste nuove ZTL in città. Sono partite il 26 novembre. Diffusamente noi abbiamo dato notizia della partenza del divieto di transito nelle ZTL. Lo abbiamo fatto attraverso la stampa, lo abbiamo fatto attraverso i media locali, insomma un pochino da tutte le parti. Queste indicazioni che ci sono nella città di Cosenza sono simili a quelle che vengono esposte in tutta Europa. Quindi sono delle segnaletiche europee che è riconoscibile in tutte le città d'Europa. Non c'è possibilità di convondere il messaggio trasmesso dal display. Io non credo che ci sia la possibilità di una sanatoria, anche perché l'opposizione che oggi ci attacca con i numeri domani potrebbe attaccarci sotto l'aspetto del danno erariale. Questa è una violazione colposa, non è una violazione di danno. Per cui se si continua, se lei magari stasera si fa una passeggiata dopo le 18, vedrà che tranquillamente ancora oggi, a distanza di circa due mesi quasi, dall'attivazione delle stesse, ancora continuano a transitare veicoli. L'appello ai cosentini di fare attenzione, ma anche l'appello a chi viene dalla provincia e chi viene dalla regione Cosenza si è dotato di questo strumento, ormai a conoscenza di tutto, di fare attenzione e di osservare le regole del codice della strada.